Ha preso il via il progetto alla scoperta dell'acqua, iniziativa didattica che il gestore del servizio idrico Gaia dedica a tutte le scuole del territorio. Lezioni in aula da parte dei responsabili del servizio acquedotto e visite guidate negli impianti in concessione. Quasi 40 baby alunni tra i 4 e i 5 anni della scuola dell'infanzia Fratelli Grim di Ponte Rosso di Pietrasanta hanno assistito ad una lezione in classe sull'acqua tenuta da Alfredo Brunini, capo servizio dell'acquedotto di Gaia nella Versiglia Sud, che li ha scortati poi all'esplorazione del campo Pozzi Frati di Camaiore e alle sorgenti Casuli. Qui gli alunni hanno potuto ammirare i luoghi da cui viene catturata l'acqua che scorre dal rubinetto di casa e a prenderne i segreti. Sono 32 in tutto i Pozzi Affrati con una profondità variabile tra i 13 e i 30 metri. Servono la zona di Camaiore Centro, Periferia, Lido di Camaiore, una parte dell'acquedotto di Viareggio e di Marina di Pietrasanta.